Dylan Dog, Old Boy, numero 11. Sì, sono tornato a rileggere l'Old Boy, con due storie inedite complete, dal titolo Le pareti del cervello e Il mostro dentro. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, bentornati nella rubrica che avevo interrotto dedicata all'Old Boy. Devo dire che questo bimestre, perché l'Old Boy è un bimestrale, questo bimestre mi aveva colpito... mi avevano colpito due cose. Uno è la copertina, che finalmente hanno capito che si poteva anche togliere questo piccolo segnalibro giallo che ci accompagnava da eoni, da un anno, e passa. Non c'è più questa scritta obbligatoria, l'ultima era forse Sessine Paim Pippo, questa non è un fumetto, non lo so, una citazione a Magritte, comunque. Tutte le volte una frase che non necessitava di esistere. Quindi sono contento che finalmente l'hanno tolta. La copertina è proprio bella, mi è piaciuta questa citazione a tutti i vari mostri horror anni 90, con questo Dylan in penombra. E i titoli anche mi avevano molto molto incuriosito. E devo dire che, nonostante il mio interesse iniziale, quello che ho letto è stato anche oltre le mie aspettative. Quindi sono davvero soddisfatto di questo Old Boy. Sì, tra l'altro, la seconda storia io l'avrei messa anche nella serie regolare, ma capisco benissimo perché è stata messa nell'Old Boy, invece. E vi dico già che mi incuriosisce anche la copertina del prossimo bimestre, quindi la copertina e i titoli del prossimo bimestre mi incuriosiscono, quindi probabilmente comprerò anche quella. Ora, non è che tutti i bimestri ricomincerò anche con l'Old Boy, ma andrò un po' a sentimento. Consigliatemi voi, nel caso ci sarà... sarà meritevole di essere letto. Prima di cominciare vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, e di condividere il video con tutte le persone che hanno un mostro dentro, che forse ne avrebbero bisogno di sentire questo video, e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video, di questi fumetti, e qual è la vostra storia preferita e perché. Annuncio importante, nel video del Color Fest ho detto che giovedì avrei avuto una live a tema di Landog sul mio canale Twitch, in realtà la live a tema di Landog sul mio canale Twitch non sarà giovedì 17, ma venerdì 18, sempre alle ore 21, sempre sul mio canale Twitch, con ospiti Pelati e Fumetti, il canale di Kuro e Luca DJ, e faremo una rassegna stampa di tutti i numeri di Dylan che sono usciti questo mese, quindi la serie regolare, il Color Fest e l'Old Boy. Ma parliamo finalmente della prima storia, dal titolo Le pareti del cervello. In questo Dylan Dog, Old Boy, l'incubo la fa da padrona. Praticamente tutte e due le storie sono pervase dal concetto di incubo, e questa cosa mi è piaciuta un sacco che c'è una sorta di fil rouge a livello argomentativo tra le due cose, anche se le due storie sono davvero diversissime l'una dall'altra. Quello che mi è piaciuto della prima storia è che Dylan fa un lavoro di indagine old style, non a caso è nell'Old Boy, in cui lui è davvero un bravo detective, in cui va a scoprire un mistero e noi insieme a lui seguiamo questo mistero. È finalmente una storia di suspense che non ti fa capire fino alla fine cosa è davvero successo, e Dylan è bravo a cercare cosa che solitamente invece non siamo abituati a vedere, cioè nello stilema sclaviano Dylan Dog è lì per caso e si affida al caso, non segue il caso per fare un gioco di parole alla graucio. Invece quando Dylan Dog fa davvero l'investigatore privato è una delle cose che a me piace di più in Dylan Dog. Ciò nonostante, di solito, quando succede questa cosa, il caso è quasi sempre terreno, non c'è mai del sovranaturale o comunque lo si aggiunge come un surplus, come un optional per far capire che siamo in Dylan Dog, come il caso della serie regolare nei Predatori dove il paranormale era davvero pochino. Qua invece è un lavoro di indagine, ma in una storia che è al 90% paranormale, questa cosa mi ha entusiasmato. La storia è una sorta di terzo film di una saga horror narrata in altri due numeri dell'Old Boy, una dal titolo Il Lago Nero e l'altra era Cuore Cattivo. Ora, io Cuore Cattivo lo avevo letto, Il Lago Nero no, e questa cosa mi dispiace molto. Infatti io, dato che sono rimasto molto colpito da questa trilogia, chiamiamola così, non mi dispiacerebbe in futuro vedere un brossurato, una raccolta di tutte queste tre storie, di questa trilogia, ora che si è conclusa, ammesso che si sia conclusa. Comunque, mi piacerebbe vedere tutte queste storie insieme in un unico volume, che è forse l'unica pecca che attribuisco a questa storia, non che ci sia bisogno di leggere le prime due, ma sicuramente avrebbe arricchito l'esperienza. Questo fattore sancisce un altro degli elementi che a me piace molto in Dylan Dog, ovvero delle storie che tra loro si parlano, in una sorta di continuity laddove la continuity non c'è, perché nelle storie di Dylan Dog la continuity è davvero molto basic. Quando c'è una sorta di sequel a me entusiasma molto, e mi piace che in questo Old Boy ci siano tutte e tre le caratteristiche che mi piace trovare in un Dylan Dog. Due sono nella prima storia, la terza caratteristica invece è nell'altra storia. Quindi un buon lavoro di indagine e un filo rosso che collega le varie storie in una sorta di continuity. La storia ci tiene col fiato sul collo fino alla fine. L'elemento soprannaturale permette alle due autrici di depistarci apposta per farci capire il più tardi possibile anche a noi lettori cosa davvero è successo in quel dannato manicomio. Come dicevo, l'incubo la fa da padrone perché molto del lavoro di indagine di Dylan Dog si svolge sul piano onirico. Noi o Dylan non ci rendiamo nemmeno conto se quello che sta vivendo è reale o è all'interno di un sogno o di un incubo o di un ricordo. E questo aggiunge molto di Dylan in quello che normalmente sarebbe un'indagine, quello che potrebbe essere un numero di Julia Detective, adesso non mi ricordo come si chiama. qua invece è prettamente di Dylan proprio perché lui non sta indagando per forza sul piano terreno ma è sul piano onirico. Questa cosa è azzeccatissima, la vorrei vedere più spesso. L'elemento incubo viene preso anche nella seconda storia, ovviamente in un modo diverso, e Dylan lo dice persino nel finale. Adesso sembra che parto dalla fine ma in realtà poi mi cira a capezzo. Quando Dylan dice a Block, dopo tutto io sono il detective dell'incubo, non sono il detective del soprannaturale. E l'incubo spesso e volentieri ha il vizio di essere molto molto terreno, molto molto reale. I mostri non sono sempre soprannaturali. E qua entriamo nella seconda storia che parla del terzo elemento che mi piace trovare all'interno di una storia di Dylan Dogg, ovvero la critica sociale. Il mostro dentro parla della storia di Robert, questo attore che richiama più o meno quello che avrebbe potuto passare, quello che potrebbe aver passato Rupert Everett, che è l'attore che dà il volto a Dylan Dogg, nella sua percorso di coming out in quanto omosessuale e la sua carriera di attore. Quindi vediamo un po' come questa cosa, a livello personale, si riflette sulla sua carriera. Noi vediamo Robert, che ha a tutti gli effetti un omaggio a Rupert Everett, tant'è che assomiglia esattamente a Dylan Dogg, ci hanno messo la barba per farlo differenziare. L'hanno anche vestito con i colori speculari a Dylan, esattamente come facevano con Francesco Della Morte nei due speciali in cui si sono incontrati con Dylan. Hanno anche citato il fatto che questo Robert ha recitato nel film Cemetery Guy, che è una storpiatura di Cemetery Man, il titolo inglese di Della Morte e Dell'Amore. Quindi ecco, c'è un omaggio a, diciamo, la carriera di Rupert Everett e come il suo coming out abbia inficiato su di essa. Ma questo è fondamentalmente un omaggio per parlare d'altro, per parlare del crimine d'odio di cui si macchiano le persone che se la prendono senza motivo con gli omosessuali perché sono omosessuali. Ah no, scusate, non è un crimine d'odio perché non è passato il DL Zan, è un crimine per futili motivi, crimine per futili motivi, scusate, scemo io. Il mostro dentro è il mostro dell'odio che alberga dentro ognuno di noi, ma badate bene, non è un mostro innato, ci viene inculcato implicitamente dalla società, dalla società in cui viviamo, dalle istituzioni, dalla religione, perché quando crescendo ci viene spiegato che cosa è normale da cosa non è normale. Laddove l'accezione normale non va più a significare qualcosa che fa parte della norma, quindi della maggioranza, e quello che non è nella norma fa parte di una sorta di minoranza, ma ce lo spiegano come normale uguale giusto, di conseguenza non normale uguale sbagliato. E così noi cresciamo in questi paesini o in queste città che però hanno ancora una mentalità da paesini bigottissimi in cui passa il messaggio che non si può fare, non è normale, ma sei normale. Cioè tutta questa cosa in cui se tu sei strano, sei particolare, sei eccentrico, sei qualcosa di negativo. La gente purtroppo che cresce in questo modo e non è capace di andare oltre, cioè di fare un'autoanalisi, di crescere oltre quello che è stato spiegato a scuola, non si rende conto che ognuno di noi fondamentalmente ha una specialità, ognuno di noi in qualche modo è diverso dall'altro in qualcosa. E quindi cerca in ogni modo di far parte di questa normalità, di questa norma, quasi affossando le proprie doti, i propri doni che rendono speciali queste persone. Per senso di appartenenza, per senso di branco, perché quando si era piccoli chi era diverso veniva preso in giro e quindi non si vuole più provare quella sensazione, anzi si vuole stare dall'altra parte, dalla parte del forte. E la gente che vuole far parte di questa maggioranza per omologarsi rafforza in sé questo sentimento di odio verso chi invece non fa parte di questa norma, di questa normalità. E vi ricordo sempre che il sentimento dell'odio nasce dal sentimento della paura, e la paura nasce dal non conoscere quello che ci si trova davanti. Quindi come si combatte l'odio? Divulgando conoscenza, divulgando istruzione, divulgando educazione. L'odio si combatte non con l'amore, cioè sia anche con l'amore, ma con la conoscenza, con l'istruzione, con l'educazione, cosa che manca molto in Italia. Il mostro dentro, come storia, conosce questa cosa. Infatti non parla solo delle persone che odiano il diverso, ma anche di quei diversi che reprimono un po' la propria natura per omologarsi, tant'è che Robert, appunto, nasconde la sua sessualità, il suo orientamento sessuale, con un matrimonio di comodo, proprio perché questo giova di più alla sua carriera, giova di più alla società in cui è contenuto. Questa repressione lo porta all'elemento sovrannaturale della storia, cioè a vedere un mostro, in vero e proprio, che ricorda vagamente Man Thing o Cthulhu, che uccide le persone, appunto, che sono diverse. Questo mostro, in realtà, si scopre essere una sorta di legame con quello che succede davvero, quando in realtà, nella realtà, non è un mostro, ma sono le persone che sono, diciamo, possedute da questo mostro dell'odio. Gli scrittori sono molto attenti a usare il mostro speculare ai ricordi, scusate, ai sogni di Robert, tant'è che quando Robert attacca il mostro e quasi lo spinge fuori dalla finestra, è la vittima che attacca il mostro e lo butta fuori dalla finestra. Mi riferisco alla giornalista che si ribella al padre, che in questo caso è il padre e il mostro, ma la giornalista che è la vittima si ribella e il mostro finisce fuori dalla finestra. Quindi sono molto attenti a non aver reso, in questo caso, il mostro la ragazza, ma era sempre Robert, che quasi buttava fuori dalla finestra quello che lui vedeva essere il mostro, quando in realtà era un'allucinazione, era un suo amico. Il numero percorre tutti i cliché dei benpensanti, e questa cosa mi è piaciuta molto, perché molte persone si potrebbero ritrovare, potrebbero davvero farsi un esame di coscienza su cose che possono aver detto o pensato e dire, forse devo aprire un po' di più i miei orizzonti. Per questo dico, mi sarebbe piaciuto che questa storia sarebbe finita nella serie regolare, ma è molto più giusto che finisca nell'old boy, perché diciamocelo, l'old boy va verso un certo target, un certo tipo di persone che si lamentano di come sia troppo moderno Dylan, di come sia troppo innovativo, di come non sia più come una volta. Quindi il fatto che questa storia venga letta da un certo target di persone è molto più azzeccato che non ficcarla nella serie regolare, anche se sarebbe talmente importante da farlo. Poi i vari cliché che ripercorre appunto lo scrittore in questa storia, c'è appunto il victim blaming, se si baciano in pubblico non possono pretendere che qualcuno non si arrabbi, questa cosa che dice il poliziotto del distretto dove succedono i crimini. Tirare in ballo i bambini, come osate baciarvi in questo parco di notte, non c'era nessuno, come osate baciarvi in questo parco? Qua ci vengono a giocare i bambini e chi se ne frega, non c'è nessuno. L'altra cosa, il fatto di essere contro natura, quando il mostro, diciamo, se la prende con la ragazza transessuale. Sei contro natura, sei un abominio, sei andata contro la tua natura. Certo, perché invece uno che si fa operare e si mette un pacemaker, ovviamente in natura i leoni lo fanno, se hanno un attacco di cuore, però una che cambia i propri genitali, in questo caso era in transizione, per sentirsi bene con se stessa, no, è contro natura. Vabbè, ma in fondo noi siamo ancora animali che girano nudi, cacciano con le mani nude e dormono nelle caverne, perché la natura vuole questo, assolutamente. Vabbè. L'ultimo cliché, purtroppo, che dà alla storia un finale dolce e amaro è il fatto che, appunto, Robert fa coming out, quindi non nasconde più il suo orientamento sessuale, quindi è finalmente in pace con se stesso, non ha più le allucinazioni, però ci mostrano come dietro a questo applauso di facciata da parte di una platea di spettatori, poi la realtà è diversa, nel senso che poi comunque ciò nonostante Robert non avrà più dei grandi ruoli, esattamente come aveva temuto all'inizio, si darà al teatro, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' come potrebbe essere capitato a Rupert Everett, ora io non ho seguito la sua carriera, non so se questo è dato dal suo coming out, dalla sua bravura, non lo so, però è vero, comunque poi è stato relegato in qualche ruolo dove faceva, appunto, l'amico omosessuale della protagonista. L'ultimo cliché finale, dove appunto la banda che inizialmente stava, voleva picchiare Robert e il suo compagno, va, passa per caso, vede altri due uomini che si tengono nella mano e vuole anche lì andare a dare una lezione. Quando uno della banda sembra aver capito la lezione da quello che è successo prima, camuffando il fatto che ha paura di farlo perché potrebbe spuntare qualcuno con la pistola, come Dylan, viene appunto insultato da uno del branco, dandogli questo epiteto di come non te la senti di andare a fare brutto ad altre persone, ma cosa, sei una checca, sei meno uomo per questo, quindi c'è anche questo maschilismo tossico, no, che va a chiudere proprio la storia. Quindi tutti i cliché che vanno a creare questo mostro che purtroppo è terribilmente reale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa storia, spero vi abbia dato qualcosa, perché Dylan è bello quando vi lascia qualcosa, quando vi lascia pensare. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, noi ci vediamo su Twitch venerdì sera, vi metto qua sotto in descrizione il link, cliccatelo verso le 21, e saremo in compagnia appunto di Umberto Di Pelati e Fumetti, Luca DJ e Kuro del canale di Kuro, dove potremo appunto disquisire meglio, anche chiacchierando attivamente con la chat, di questi argomenti. Quindi vi aspetto venerdì sera. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.